ciao a tutti ragazzi oggi io allora intanto è da un bel po che non gioco a mini world che non faccio più video in questi giorni infatti allora intanto non ho capito perché non mi fa entrare cose che non mi fa entrare allora intanto non l'ho fatti più perché sapete che è iniziata la scuola e ci sono stati alcune cose che dovevo fare non potevo fare i video comunque io ogni volta e ogni giorno spero sempre di fare video però non posso e questa questo mondo è pieno di persone matti e io gli scrivo ciao allora che vuole questa tu sai che ora ricambio e quando ricambio ecco ciao bella anzi una mi ha scritto ciao oh e oh cosa ora mi caccia questo ora mi caccia comunque ragazzi io il video non l'ho fatto per entrare sempre come dice tipo c'è io ho fatto non l'ho fatti video per entrare soltanto in questo mondo ma per entrare in alcuni mondi perché so endo per poco che non gioco a mini world intanto e qua stanno scrivendo laggo povero occhi spalancati penso che sarebbero quelli comunque comunque sta scuola mi sta troppo distruggendo c'è brutta sta scuola ma è io sono nuovo di sta scuola c'è tipo il primo giorno nella mia nuova scuola c'è primo giorno no lo dico sto raccontando il giorno della mia scuola ora ve lo racconto però breve ve lo racconto allora allora vi racconto ancora che era di sera e io non ce lo facevo addormentarmi perché pensavo 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 alla scuola ai nuovi compagni poi e poi ho pensato e se ci saranno prof cattivi o bravi vedremo domani io non conoscevo nessuno sono entrato dal cancello ovviamente vado al pannella valauri no valauri no e si infatti andavo al valauri però siccome ci hanno cambiato di classe non so tutto all'improvviso ci hanno ma chiesto cosa che stanno rompendo blocchi comunque c'hanno c'è ancora il passaggio segreto no non dimmi che l'hanno cacciato guardate qua l'hanno cacciato eh si l'hanno cacciato eh vabbè comunque eh io ho detto vabbè vado e di sicuro mi farò amici perché nelle nella nella prima terza seconda terza non è stato nessuno bocciato e manco io e no no io c'è non è sì ce l'avevo due amici mi pare mi ricordo per questi due amici facciamo doppia faccia devo dire per forza che è successo e ci cacciamo il suono per forza non possiamo che che tatta e tu tu che cacciate su suoni e vabbè e comunque io ho detto speriamo che troverò amici tutti pensavano che il carattere era che non trovava amici invece no che succede quest'anno che mi ha fatto soltare qui vabbè quest'anno è il secondo giorno di scuola si avvicina a uno una persona un compagno e mi dice se mi ricordo bene mi ha detto perché ora non è più settembre perché iniziato il 20 settembre in calabria calabrietta calabrietta allora è perché alcune parti iniziato il 6 il 13 e da noi il 20 che è successo e siccome c'è detto come ti chiami se cose qua io ho detto tutto piano piano mi sono liberato cioè ho detto quello che che c'erano le medie che nessuno mi calcolava niente ed è brutto quando una persona non calcola un'altra persona ma qui come facciamo ora anche che succede che succede perché ovviamente nel mio cuore diceva di dire succede e mio e mio cervello successo e quindi succede allora io cammino un poco per qua perché non me la ricordo più cioè me la ricordo però ma la pena allora succede che un po di giorni dopo e che succede mi due ragazzi mi ricordo due dove abituì hanno suonato appena ora dunque mi ci si avvicina un'altra volta questo compagno sto dicendo avevo sbagliato prima si avvicina e parliamo molto 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 e assieme parliamo io mi ero vergognato mi vergognavo parlare perché non ero abituato perché nessuno mi calcolava e fate conto che manco nelle elementari avevo amici e quindi la avevo pensato nelle medie avevo pensato che era il mio carattere invece no e non era il mio carattere e poi è successo che mi sono diventato amico con questo poi con questo qua questo compagno aveva un altro amico filippino che poi c'è c'era imparlato per un attimo quindi ho pensato che mi cacciavano al mondo se in caso ci cacciano io e ne vado un altro mondo e tipo secondo me è meglio un parkour aspettate ok siamo venuti in questo è troppo brutto qualcuno te lo deve tenere comunque vediamo vai no vabbè comunque sto dicendo siccome poi io e mi abituato a parlare con i miei compagni ho detto vabbè cambio persona divento più c'ero c'ero cosa può dire ma perché non si può più cacciare qui si può l'ha abbandonato però non me l'ha abbandonato vabbè comunque cambiamo un'altra volta perché è brutto stiamo entrando in un parkour che a me piace ok questo qua è bellissimo allora sto dicendo e poi vi dico pure al giorno d'oggi come sono con i miei amici quasi salta in modo strano infatti sono caduto vabbè vabbè ecco qui allora sai che non mi ricordo dove sono arrivato vabbè comunque voglio dire che siccome e no comunque stiamo facendo quasi due anni di lo so che non c'entra niente ma stiamo per fare quasi due anni di canale ragazzi mamma e ho salvato ti ma guarda che sono felicissimo salvato ho salvato sì prima che sono allora sto dicendo siccome io ora con i miei compagni proprio sono diventato c'è miglior amico della classe poi c'è allora secondo me nessuno mi odia nella classe per quello che penso io nessuno mi odia e sono ritornato là come un ritornato e allora io preferisco meglio che nessuno mi odia va bene normale che tutti preferiscono che nessuno odia la persona che non vuole che odia che le persone vabbè lasciamo stare comunque è però la mia classe al panella perché al panella valauri si è tipo è più per maschi quindi infatti nella nostra classe ci sono soltanto maschi caccia è scesa vabbè ciao bella ciao ciao vabbè e comunque c'è io tutti nella classe siamo maschi e quindi io dicevo no tutti i maschi manca una femmina però c'è in una parte ho detto possiamo confidarci tutti tra maschi no che c'è quella femmina dice e i maschi i schifosi e quindi si può dire niente c'è quello che penso io comunque è sono morto pure sono risuscitato 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 comunque è l'amico filippino e dov'è qua a sto dicendo ma perché non trovavo a perché no perché come è stato per comunque è sto dicendo l'amico filippino io ho pensato e secondo me devo fare pure il primo passo anche con lui perché l'amico filippino è venuto il secondo o il terzo giorno mi ricordo ma comunque o il secondo il terzo giorno ma non sai che è pure il quarto forse comunque secondo terzo quarto giorno comunque è venuto nei primi giorni della scuola che è successo ho scoperto che questo filippino che poi al giorno d'oggi ora è un mio il mio miglior amico e ha tipo andava a scuola anche nelle filippine per ora è anche in italia e c'è tipo per essere come si dice per essere superiori ci comportiamo bene però parlando ancora del filippino si chiama joshua comunque è un bel nome mi piace però si vuole far chiamare josh e cioè io non gli ho detto che è un canale youtube però se io dico può essere che si iscrive e gli piace fare anche se avete sentito rumore non ricordo che cos'è comunque gli piace anche fare basket comunque c'è sto amico qua pubblico che tutte le parti mi segue è più bravo lui che a me a fare i parkour e che io vado a sinistra destra sinistra ma al centro mai mai ok comunque sto dicendo josh è un amico proprio bravissimo comunque so josh si conosce con il mio miglior amico che mi sono conosciuto il primo anno da tre anni perché andavo nelle medie io non lo sapevo poi l'ho saputo e quindi che mi ha fatto piacere molto piacere perché ora tipo comunque nella classe ci deve essere sempre un miglior amico è sempre un nemico anche però c'è tipo per ora nemici nella classe non ce l'ho per quello che so io no è che se abbiamo vinto nel gruppo perché abbiamo sì anche un gruppo sia per i prof che per per i compagni e e poi c'è tipo i miei compagni ho vinto il mio compagno sto guardando questo video e sto dicendo ma sta parlando proprio di me sì per forza perché c'è tipo io ho amici nella classe però c'è ora non faccio cognomi solo un nome però il mio migliore amico c'è tipo quello che ho conosciuto il primo giorno mi sembrava antipatico io l'ho detto anche lui l'aveva antipatico di come mi guardava il perché noi eravamo fuori che aspettavamo lo so che faccio schifo sui parkour ragazzi cioè stavamo aspettando che suonavamo la campanella con il prof di 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 elettronica mi pare che elettronica e infatti nelle superiori si fanno più materie e io sta cosa non la sapevo comunque perché non me l'ha detta nessuno che è successo quando io lo guardavo e lui certe volte mi guardava ha un bello stile questo ragazzo cioè a tipo di gli piacciono i cantanti rock star che sta cantando rock e io cado sempre uno mi rimane perché devo fare il ritardato per perché è ecco qui quando cadiamo andiamo a prendercelo di sicuro ci sarà sotto e andiamo andiamo c'era proprio bisogno di pensarlo manco e aaaah non posso farla per sta cosa aaaah no ce ne ho due e allora ce ne avrò curato quattro se mi ritorno la due e guarda quattro che è buono sono quattro buoni che è successo e vabbò poi eeeh c'è tipo il mio compagno eeeh c'è tipo non lo so ancora cosa dire perché siamo soltanto migliori amici noi che però scrivete no lo so che non c'entra niente però scrivete nei commenti chi si guarda il collegio eeeh ovviamente chi vuole scrivere e lasciate like per chi per chi si è iscritto per chi si è iscritto ah ci abbiamo uno ok due ce ne abbiamo chi si è iscritto lascia like perché se non lasci like che ti si è iscritto no scherzo io vi dico sempre fate come volete nei video quando dico mettete like di solito dico sempre e se volete eeeh perché è giusto comunque io cioè oggi c'era dad da scuola non si andava a scuola perché c'era la la io mi ricordo la come si chiama l'assemblea perché non sono abituato perché nelle medie non c'era l'assemblea è una cosa bellissima per me si sta a casa è così che si deve fare assemblea tutti i giorni io voglio fare tutti i giorni però non si può eeeh però ogni volta e ogni mese non è sempre o certe volte ogni mese però a tipo quando si fa dad e oggi sono mancato perché e non ho fatto no che non ho fatto in tempo perché siccome non ho fatto in tempo a collegarmi perché il computer si è impallato si è impallato no perché eeeh ho scoperto che questo computer che io ho 66 virus lo devo resettare poi eeeh 66 virus perché io non lo so usare bene il computer e per scaricare i giochi entro da chrome perché cioè si può mettere anche play story sul computer vero? io non sono bravo sui computer ma si può mettere anche da chrome qualche qualche gioco che io usavo chrome tipo perché c'era un sito che si poteva giocare tutti i giochi senza scaricarli e io che so giocavo perché volevo preparare un video infatti per per questo canale ma no non c'era non c'era niente da fare ho scoperto che ci sono 66 virus ora che fanno a fare sti sti siti per giocare c'è un bambino piccolino che vuole giocare che vuole che so divertirsi e poi col computer del padre facciamo finta e gli manda dei virus perché perché ha giocato cioè queste cose queste cose non si fanno comunque comunque questo qua era la storia della mia scuola che ho iniziato il primo giorno e infatti a me piace questa scuola c'è i professori ora parliamo un po' che i professori facciamo anche 20 minuti di video a voglia ve lo guardate è vero che interessano le cose dei professori ora parlo dei professori chi si guarda questo video come professori non vi dovete offendere ma che è successo? mi è crashato il gioco è la cosa più brutta del mondo rientro sono entrato in un altro parkour ma che cosa hanno combinato in questo cavolo di parkour comunque basta che parlo che dico dei professori io ho notato in questi giorni che sono andato a scuola ovviamente e che i professori ma di più anche i bidelli sono pazzi no sono pazzi perché siccome dai devo dire la verità cioè avevo dolori forti al dente e mi dovevo prendere l'occhio ma che quello mi calma e che è successo? lo si deve prendere col bicchiere si si deve prendere col bicchiere sono andato a bidelli cioè ora a scuola quando fanno pausa i bidelli oppure i professori non si prendono un come si dice un caffè bel caffè calma caldo caldo va bene va bene sto prendendo sto caffè e che succede? cioè dico sto dicendo si devono prendere il caffè quando c'è la pausa e quindi ci devono essere i bicchierini piccoli che succede? che succede? io ho chiesto a salve salve sono bravo io a scuola sono molto educato salve lei mi guarda questa bidella non faccio il nome perché ma cosa io sai come la chiamo? la chiamo ranocchio non mi ricordo e e io dico avete un bicchiere perché siccome mi fa male il dente mi devo prendere l'occhio e ha detto non abbiamo nessun bicchiere mi ha detto mi ha detto va bene e quando avete prendere il caffè come ve lo prendete? io ho detto va buono sì mi ha detto non ce l'abbiamo il bicchiere come ve lo devo dire? e va bene mi devi rispondere soltanto come ve lo prendevate come ve lo prendevate? con le mani si prende il bicchiere il caffè e vabbè comunque e già questa cosa è brutta e quanto ora poi c'era un'altra prof che a mio compagno gli ha detto c'è sta prof cioè il mio compagno si è stato fermo no fermo si è mosso un poco e parlando con il compagno dietro e che succede? dice la prof sì sì tu gli hai ripreso il telefono al compagno e daglielo subito e ecco il mio compagno non gli ha dato niente e lui ha detto non gli ha dato niente a nessuno ha detto sì quello non è il tuo telefono ma se gli ha detto ma questo è questo qua il mio telefono ed è cresciato un'altra volta il gioco e l'altra un'altra volta ha detto ma se questo è il mio telefono e l'altra no e non è il tuo telefono va bene sì poi io mi sto scriccando le dito poi io ho sonno che succede? comunque mi è cresciato il gioco che quando si chiama quando mi chiamano è internet ma non sono l'unico anche mia sorella fa così internet si se ne va e quindi vuol dire è cresciato per questo comunque comunque molte prof sono impazzite infatti ci sono pure quelle là più esagerate che poi se vi interessa vi faccio proprio un video che parlo proprio di questo ormai sto parlando tutto con questo video poi che succede? siccome c'è una prof che ha molto paura del covid e ha detto devo stare lontano di due metri da voi lo sapevate e noi ok e poi c'è tipo il mio compagno ha detto ho un leggero mal di testa vedete il mio compagno e la prof ha detto non vi posso immaginare guardate avete sentire ha detto muoviti alzati e vai subito nella sala covid ma io sono rimasto basito e ha detto perché ha detto che hai il mal di testa ha detto va bene me ne vado ha detto prenditi anche lo zaino che è successo chiama il bidello e lo porta nella sala covid non aveva non aveva niente mi aveva detto lo sai che cosa mi aveva detto alla alla prima allora non mi ricordo se me l'ha detto o no perché io sto immaginando me l'ha detto non mi ricordo comunque mi ha detto che si cerca stare in classe e di sicuro forse era un piano a per andarsene comunque eppure questa era pazza perché è un criceto che grida vattene dalla classe perché ha il mal di testa nella sala covid non è pazzo comunque vabbè questo era mezza storia che comunque all'inizio ho detto storia breve non è per niente breve lunga vabbè poi scrivete nei commenti se volete proprio una storia dove vi racconto proprio tutto va bene ragazzi spero il video vi sia piaciuto noi ci vediamo in un nuovo prossimo video ciao